Ciao a tutti, oggi vi vogliamo parlare di un finanziamento ricevuto dal Comune di Rimini, dalla Regione Emilia-Romagna attraverso l'utilizzo di fondi europei per il sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale attraverso la creazione di servizi o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate. Cosa succede? Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini firmano una convenzione dove il Comune si impegna ad approvare delle attività e presentare delle attività per la promozione appunto del Comune di Rimini attraverso quelli che possono essere sistemi innovativi e tecnologie avanzate. La Regione cosa deve fare? A fronte dello stanziamento di 200.000 euro da spendere dal 2017 fino al 2020, naturalmente dovrà verificare e deve verificare che poi le attività svolte dal Comune siano attinenti con la convenzione firmata e nel caso non lo fossero naturalmente revocare il finanziamento concesso. Cosa fa il Comune di Rimini con più o meno 40.000 euro dei 200.000 stanziati e da spendere da qui al 2020? Questa è la risposta. Bene, ora cosa ci siano in tavolini di legno, sedie di legno, un pavimento trucciolato, cosa ci sia di innovativo, tecnologico e tecnologicamente avanzato? Ce lo stiamo chiedendo francamente. Oltretutto questo progetto presentato al Comune di Rimini il 22 di novembre, secondo il Comune stesso, ha delle caratteristiche infungibili e non surrogabili da prestazioni alternative che, in poche parole, per uscire dal burocratese, significa che meglio di così non potevamo trovare. Bene, la società che riceve questi 40.000 euro in affidamento diretto senza gara presente al proprio progetto il 22 di novembre, il Comune di Rimini fa la determina il 22 di novembre, un'efficienza che nemmeno a Friburgo che è tanto cara a Agnassi. Insomma, noi abbiamo presentato un'interrogazione, chiediamo alla Regione di verificare che effettivamente ci siano i presupposti che esistono nell'accordo per confermare questo finanziamento, perché 40.000 euro dati per dei tavolini in legno, noi sinceramente, oltretutto al gelo, perché sono in piena piazza e ci sono dei funghi ma sono stati spenti per tutto il tempo, non capiamo che cosa abbiano di tecnologicamente avanzato, innovativo e che possa proiettare Rimini nella promozione turistica e culturale per attrarre nuove persone. Quindi abbiamo presentato un'interrogazione, chiediamo alla Regione che verifichi che le attività presentate dal Comune siano attinenti alla convenzione firmata e nel caso revochi 40.000 euro, perché non ci sembra corretto che i fondi regionali e i fondi europei vengano utilizzati per cose diverse da quelle che dovrebbero essere le loro finalità.